Si sta usando questo concetto di genere anche per l'ipotesi del successore o la successora di Napolitano, se qualcuno facesse il suo nome lei come reagirebbe? Per carità, nel senso che io lo considererei un lavoro terribile, oltre ad essere un grande onore Una disgrazia, sì, non l'accetterei mai, ma penso che ci siano delle donne che sarebbero Io ne conosco tante che farebbero le carte false No, ma a parte questo penso che ci siano delle donne degne, non so, per dire la Bonino io la vedrei come Presidente della Repubblica Perché ha fatto, prima di tutto, una donna onesta, pulita, che non ha mai fatto imbroglie, eccetera E poi è una che ha lavorato tanto, ha lavorato nel campo dell'immigrazione, della politica sociale